La parola al dottore Sabelli a cui chiedo dalla sua postazione di Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati ma anche dell'esperienza di sostituto procuratore alla procura di Roma questa accentuazione che stamattina abbiamo visto emergere nei discorsi a vario titolo che sono stati proposti nelle due sessioni verso la prevenzione rispetto al diritto penale se le sembra uno scandalo oppure è una tendenza che dobbiamo prendere sul serio Sì, io apprezzo il profumo delle università ma poi siamo costretti, sono costretto a respirare la polvere dei tribunali quindi scendo dalle considerazioni alte che sono state fatte di carattere generale a considerazioni se vogliamo di tipo più pratico Ora, questo convegno si articola, almeno alcune delle sessioni di questo convegno si articola con riferimento a tre pilastri il diritto penale, la prevenzione giurisdizionale, la prevenzione amministrativa quindi le interdittive prefettizie questo io trascuro le interdittive prefettizie che saranno poi oggetto di discussione ho visto che ci sono dei relatori molto qualificati sia di distrazione prefettizia, sia prefetti che rappresentanti della giustizia amministrativa Mi pare che questo modo articolato di aggredire il fenomeno mafioso questo proprio per quanto riguarda gli aspetti finanziari, patrimoniali, imprenditoriali, il rapporto con la politica il rapporto con le istituzioni Io come sostituto procuratore di una direzione distrettuale antimafia ho una certa dimestichezza con indagini in materia di riciclaggio per reati di riciclaggio So bene come sia relativamente facile acquisire denunce in materia di riciclaggio iniziare un'indagine in materia di riciclaggio come sia molto più difficile arrivare ad una condanna Già stamane Giuseppe Pignatone ricordava il basso numero di condanne di sentenze di condanna per riciclaggio e buona parte di queste riguardano fenomeni che con la criminalità organizzata non c'entrano nulla e il problema è di tipo investigativo ed è buona parte di tipo probatorio ne accennava il procuratore nazionale antimafia quando ha ricordato che i fenomeni criminali di natura finanziaria sono ormai fenomeni transnazionali e passano spesso attraverso paesi, attraverso realtà che di fatto impongono uno schermo che le indagini faticano a rompere questo è un problema che ricordo affrontavamo quando partecipavo alle riunioni del Gafi il gruppo d'azione finanziaria internazionale e quando affrontando il tema del riciclaggio dei mezzi di contrasto venivamo richiesti di fornire dati statistici e i dati statistici rivelavano proprio questo tipo di difficoltà naturalmente poi le difficoltà erano anche di altro genere per via di una faticosa armonizzazione delle legislazioni nazionali ma in quella sede l'Italia veniva anche richiesta di fornire dei dati in ordine al reato di autoriciclaggio e su quel tema io portai il reato di cui all'articolo 12 qui inquiese che come diceva stamane Pignatone è una manifestazione di autoriciclaggio che tuttavia non esaurisce l'ambito non basta ovviamente eliminare la clausola di esclusione come è stato detto dal professor Fiandaca stamane evidentemente bisogna intervenire in modo più complesso ma noi crediamo che sia questo un problema che si deve affrontare e tuttavia queste difficoltà di prova che poi riguardano la prova essenzialmente del reato presupposto sono una delle ragioni non l'unica evidentemente ma una delle ragioni per cui il fenomeno della criminalità organizzata e in particolare di quella di tipo mafioso non può essere soprattutto sul versante patrimoniale adeguatamente affrontato con gli strumenti tradizionali del diritto penale e qui la necessità di ricorrere agli strumenti della prevenzione patrimoniale fermo restando quello smosi che pure si ricordava stamane fra attività investigativa attività tipica con gli strumenti tradizionali del diritto penale e materia della prevenzione giurisdizionale per la necessità di ricavare da quella attività il materiale che poi costituisce i sufficienti indizi che sono alla base dei provvedimenti di prevenzione giurisdizionale discutevo informalmente stamane si è allontanato l'avvocato Spigarelli sulla compatibilità perché c'è ancora chi dubita della compatibilità della compatibilità degli strumenti della prevenzione patrimoniale con il nostro ordinamento direi che per quanto riguarda il nostro panorama costituzionale il problema è ampiamente superato e direi ma poi la questione sarà credo affrontata in termini più analitici direi che è superato anche con riferimento al panorama internazionale ormai vi è una consolidata giurisprudenza della Corte Edu in tema di assoluta compatibilità fra la prevenzione giurisdizionale e la convenzione dei diritti dell'uomo ferma restando il rispetto di alcuni principi in particolare l'equilibrio fra l'interesse generale e i diritti dell'individuo la necessaria previsione di legge ma uno dei punti maggiormente critici cioè l'inversione dell'onere della prova è stato ritenuto compatibile con le previsioni della convenzione da ultimo è intervenuta la risoluzione del Parlamento europeo che proprio traendo mi riferisco alla risoluzione del 23 ottobre 2013 che proprio prendendo spunto dalle misure di prevenzione italiane ha rivolto agli stati membri dell'Unione europea alcuni inviti l'invito in particolare a introdurre modelli di confisca non basati sulla condanna l'invito a garantire in maniera efficace il reciproco riconoscimento degli ordini di sequestro e di confisca ritenendo come questi strumenti siano essenziali per il contrasto alla criminalità organizzata e ai fenomeni collegati di corruzione e di riciclaggio un altro aspetto che in tema di misure di prevenzione credo debba essere affrontato è quello dell'adeguamento della legislazione vigente in particolare del codice antimafia a questo proposito esistono dei progetti piuttosto approfonditi che trattano i vari profili che vengono in considerazione l'aspetto più strettamente procedimentale ma anche soprattutto direi l'altro profilo critico al quale pure stamane si è accennato che è quello della gestione dei beni tema molto molto delicato perché evidentemente riguarda non soltanto i beni immobili ma ancor più delicato quando si viene a parlare di gestione dei beni sequestrati e confiscati che consistono in aziende e qui il problema evoca anche un altro aspetto e cioè la questione del rapporto con la società con il mondo del lavoro con il mondo produttivo io sono d'accordo con molte delle cose che stamane ha detto il professor in solera tuttavia dobbiamo essere anche consapevoli del fatto che è piuttosto ancora diffusa fra i non addetti ai lavori l'idea che associa la mafia l'organizzazione criminale con manifestazioni violente con manifestazioni cruente con l'imposizione violenta e l'intimidazione palese si è già detto molto bene come la riduzione degli omicidi la riduzione quindi delle azioni cruente sia stato in sostanza il risultato di un'azione di contrasto molto efficace e tuttavia questo si è accompagnato da lungo tempo da molti anni ad un maggiore inserimento delle realtà criminali nel settore produttivo nella finanza nell'impresa nelle istituzioni pubbliche attraverso forme che conservano i tratti tipici del fenomeno mafioso ma in modo meno evidente e quindi se vogliamo in modo più insinuante e anche per certi aspetti comunque assai pericoloso e allora soprattutto in tempi di difficoltà economica è alto il rischio che un'economia corrotta quindi un'economia che alla fine si giova nella percezione superficiale di quelle che sono in realtà le alterazioni criminali prodotte dalle organizzazioni mafiose possa contribuire ad alimentare un consenso che è in realtà generato da una certa sottocultura e allora in questa situazione è alto anche il rischio che l'intervento dello Stato l'intervento disinquinante dello Stato dall'infiltrazione mafiosa sulle aziende mafiose possa essere percepito come la rottura di un equilibrio economico accettabile e quindi possa essere percepito quell'intervento disinquinante operato dallo Stato esso stesso come un problema credo questo sia un aspetto sul quale bisogna riflettere con estrema serietà e allora mi ricollego a quanto dicevo prima sulla necessità di intervenire con molta attenzione anche con una adeguata disciplina rinnovata sull'aspetto della gestione dei beni sottratti alla mafia trovando un corretto equilibrio fra tutte le esigenze esigenza di intervenire con strumenti di disinquinamento esigenza di intervenire con la tutela delle ragioni dei lavoratori esigenza di intervenire cercando di salvaguardare la produttività dell'azienda sottratta alla mafia era un aspetto del quale parlava stamattina credo Raffaele Cantone e questo richiede veramente la collaborazione di tutti di tutti coloro che sono direttamente impegnati in questo settore ma anche l'impegno delle organizzazioni sindacali l'impegno delle rappresentanze dell'imprenditoria e richiede il sempre maggiore sviluppo di una forte cultura della legalità ecco io approfitto di questa di questa occasione anche nella veste che come è stato detto ricopro di presidente dell'associazione magistrati per manifestare tutta la vicinanza e la solidarietà della magistratura associata di tutti coloro consentitemi innanzitutto i magistrati che sono impegnati in quest'opera molto difficile grazie grazie al dottor Sabelli ha toccato una dozzina di questioni che andrebbero adesso approfondite però vorrei sollecitarlo su un punto che riguarda il suo ruolo di presidente dell'associazione nazionale magistrati domani secondo me si sarebbero un momento molto importante oltre a film di PIF cioè la costituzione dell'associazione nazionale dei magistrati e le misure patrimoniali è un'iniziativa importante perché parte dalla base magistrati che credono di avere bisogno di mettersi in rete per scambiarsi esperienze che per la prima volta chiedono anche una mano a due università cioè l'università di Palermo e l'università cattolica questo significa anche un'apertura culturale nuova devo dire rispetto alla vostra cultura corrente un poco autorreferenziale talvolta sette volte spesso ma il problema che è sul tappeto è la questione della professionalizzazione specializzazione dei magistrati perché io mi sento di poter dire non in maniera impressionistica ma sulla base delle ricerche che abbiamo condotto diretti dal professore Fiandaca nell'ambito dell'ultimo PRIN progetto di ricerca di rivelanza nazionale che le misure di prevenzione patrimoniali sono andate avanti in questi anni nonostante poi tanti si sono freggiati del successo di queste attività sono state condotte da gruppi veramente motivati di investigatori di magistrati spesso come io ho molto piacere di aver sentito oggi la presidente Bindi che proporrà in commissione la istituzione di sezioni finalmente specializzate e autonome delle misure di prevenzione ma tutto questo è avvenuto lo dico soprattutto ai miei studenti è avvenuto per iniziativa quasi solipsistica di tanti amanti del settore in giro per l'Italia tra investigatori e magistrati in realtà soprattutto la magistratura il consiglio super la magistratura non ha mai preso atto della specificità di questo del lavoro che fanno questi magistrati in giro per l'Italia quindi sarebbe ora che diventasse un tema non per iniziati ma un tema diffuso anche perché la cultura che si è addensata si è accumulata dentro i tribunali della prevenzione in giro per l'Italia è una cultura che farebbe molto bene ai colleghi dei processi penali che fanno sequestri che applicano misure anche 2-3-1 perché è una cultura che si è confrontata e si confronta da vent'anni sulla questione delle bonifiche aziendali della salvaguardia dell'apparato produttivo del nostro paese in equilibrio e in bilanciamento con le esigenze di tutela e di ordine pubblico cioè è davvero una cultura tra l'altro che ha molte smagliature che secondo me può dare moltissimo ancora ci sono dei limiti forti ma che non è stata mai fatta propria dalla magistratura ufficiale insomma è una censura quello che volevo fare all'associazione nazionale magistrati sostanzialmente